Avete mai ricevuto una telefonata dal numero privato? Beh, probabilmente se risponderete, il vostro interlocutore attaccherà la chiamata o inizierà a dire cose insensate o a fare scherzi. Ma un tempo fa un ragazzino ricevette una chiamata dal numero privato. Rispose, così per provare a indovinare chi fosse. Subito sentì rumori, bassi e sconnessi, che poi si fecero più alti e chiari. Sembravano leve risate. Lui fu sul punto di riattaccare, ma poi sentì qualcosa altro che lo attirò. Una specie di canto che sembrava cantato al contrario. Ascoltò meglio e poi al canto si aggiunse un altro rumore. Sembravano risate, sempre più forti e profonde. Il ragazzino cominciava ad inquietarsi, cercò il tasto per riattaccare, ma sullo sfondo del suo iPhone vede solo due occhio bianchi e un sorriso dello stesso colore. I suoni si fecero ancora più alti e sembrava quasi che il telefono avesse degli amplificatori. Il ragazzo gettò a terra il telefono, spaventato, ma poi al suono si abbassò leggermente e una voce profonda e rauca disse ridendo, «Dietro di te». La chiamata si spense e il ragazzino venne trascinato sotto il letto da una grande mano nera. «Adesso ti dirò, sei attento alle chiamate con il numero privato?» «Oh, aspetta, mi squilla il telefono». «Dietro di te». Grazie a tutti.